Ciao dolcezze, nuovo video ASMR pieco vestiti me l'avete richiesto in tantissime, tantissimi di voi e quindi lo facciamo lo faccio perché me l'avete richiesto e perché mi va di farlo e ho anche delle cose da piegare, quindi facciamo in fretta cioè in fretta, rilassatevi allora, ho un sacco di mezze maniche da piegare, due asciugamani un sacco di cose, quindi togliamo e facciamo una cosa alla volta perché ci sono veramente tantissime cose spero che mi sentiate, vedermi, mi vedete spero che mi sentiate perché ho il microfono attaccato al colletto così ho le mani libere perché sennò piegare i vestiti con il microfono in mano viene un po' difficile, ok? scusate i vicini che si stanno muovendo e che sbattono le porte aprono, chiudono le porte allora, spero che sentiate un po' di suoni magari gli asciugamani stesi, i vestiti quando li stendo fuori hanno un odore schifoso di smog, di umidità, che schifo, mi piace non ci posso far niente, io li lavo e profumano perché li lavo con le dashpots con le tavolette, con le taps per la lavatrice della dash e quindi profumano di solito ma quando li stendo fuori poi li retiro e hanno un cattivo odore di smog di umidità nel mio paese c'è tanto smog anche se non sono in città questo è un asciugamano del Lidl ed è bellissimo blu io ho il bagno azzurro e quindi mi piace tantissimo l'ho comprato l'anno scorso e ha faccio un po' di scratching ha le stelline mi avete richiesto anche un video di scratching e quindi lo faccio adesso un pochino di scratching lo facciamo adesso spero che vediate che sentiate ci sono anche gli uccellini vorrei fare dei video sul balcone però non posso ma che ci sono i vicini ok lo pieghiamo in metà guardate che bello c'era anche rosso mi sembra porto lo stasciugamano i vicini proprio adesso devono far casino lo pieghiamo così vedete lo tiriamo su e lo pieghiamo guarda dietro qua sono in rilievo ma si vedono poco le stelline bellissimo e qui invece sono colorate belle grosse le stelle a Lidl ci sono sempre un sacco di cose meravigliose magari giovedì ci sono altre offerte vado a comprare di nuovo qualcosa ho fatto già altri video show and tell finalmente sono tornata dopo tre mesi a comprare qualcosa nei cinesi i detersivi pochi e stanno aumentando anche i cinesi i detersivi e il prezzo dei detersivi vabbè volevo comprare la mucchina la mucchina che adesso c'è e anche il lievito la farina 00 ci sono tanti pacchi adesso in offerta a 99 centesimi o a 39 centesimi 3 kg a 1 euro da Lidl mi sembra sì ottimo molino rosso forse come marca la voglio comprare adesso che la quarantena dovrebbe essere finita si spera ma ne dubite bellissima questa stella spero che l'abbiate vista facciamo il tracing bello mi piace un sacco questa stella quindi uno piegato a posto se io ho tirato sulle sedie perché ho passato prima l'aspirapolvere mi sono dimenticata di tirarle giù questo asciugamano da cucina con la riga verde è già piegato praticamente in metà ok piego sempre in metà uno sull'altro praticamente un angolo sull'altro lo pieghiamo voi come state spero bene da voi che tempo fa in che zona del mondo siete nord sud centro fatemi sapere questa striscia verde ne ho anche un altro però devo pulirlo con il varnish questo asciugamano rosa con la striscia rosa che non viene pulita dalle macchie adesso magari lo lavo dopo lo lavo dopo con il varnish a 40 gradi e lo pieghiamo così lo pieghiamo su se stesso così l'asciugamano c'è chi li arrotola c'è chi li piega io li piego così come avete visto anche quello da bagna l'altro azzurro su se stesso lo piego così bellissimo sono belli spessi questi mi piacciono anche tantissimo i panni in microfibra da cucina molto bello questo poi ho tante magliette allora una mia maglietta blu questa qui di Lidl che ho messo tantissimo ma questa qui è abbastanza spessa ecco anche questa la piego vedete così è mezze maniche e ha questo lato questo angoletto così sportivo diciamo vedete con questa retina che dovrebbe far traspirare respirare la pelle come le scarpe della Jerox più o meno adesso l'ho piegata ok la ripiego di nuovo su se stesso io piego tutto due o tre volte e più piego meno devo stirare perché con questo caldo guarda io veramente non so voi se stirate con questo caldo ma odio veramente usare il ferro da stiro con questa afa che inizia ad uscire già a fine maggio faceva caldo ma adesso fa ancora più caldo ecco qua la maglietta piegata sembra blu ma io la vedo viola voi magari come la vedete fatemi sapere io la vedo viola ho preso anche questa da Lidl ed è all'incontrario perché io molte cose le estendo e le lavo all'incontrario che mi viene meglio poi la posso piegare chi la mette nel cassetto io magari la metto nell'armadio piegata o appesa alla gruccia poi un'altra maglia mia questa con una bellissima frase molto divertente l'ho presa da Alcarfour l'anno scorso è grigia io non ho quasi niente di grigio nell'armadio tutto bianco nero rosso soprattutto tanto blu tanto nero e tanto rosso come i vestiti miei dell'armadio questa è tutta stropicciata però la pieghiamo prima vi faccio vedere la scritta che ha sopra è bella larga magari fosse tutto così semplice come ingrassare ingrassare è bellissima vero mi piace un sacco e poi è un po' strontato sul fondo mi piacciono tanto le maglie con queste frasi un po' buffe un po' divertenti un po' simpatiche io ne ho un'altra con scritto che pazienza che dovrei anche averla lavata dovrebbe essere da qualche parte non l'ho ancora piegata io queste maglie qui avendo l'armadio le appendo tutte alla crucia alla crucia la piego così e poi le appendo alla crucia o le metto una sull'altra le magliette tutte piegate allo stesso modo ecco qua non so poi se magari io non so piegare i vestiti li piego a modo mio quindi se c'è qualcuno che mi sa spiegare come si piegano bene i vestiti è meglio devo fare un corso da me ricondo o da qualcuno che sa piegare i vestiti io li piego a modo mio non ho fatto un corso di piegatura panni è un video ASMR non è un video dove dobbiamo studiare e lavorare non è un video dove vi spiego e vi insegno niente è un video rilassante anche questa della coca cola è lunghissima rossa come vi dicevo prima ho tante cose rosse ok ha le maniche un po' ad aletta un po' ad aletta ad aletta vedete ecco così così sfuoca un po' non mette tanto quella fuoco il cellulare sempre con il microfono vedete com'è si chiedono un po' la scende praticamente quando la indosso ha lo scollo rotondo è bella larga molto comoda questa maglia anche girata all'incontrare come le altre la piego così su se stessa voilà questa si asciuga in fretta l'ho messa una sera il giorno dopo alle 8 era già di nuovo asciutta in due minuti fantastico poi col sole che c'è fuori si asciuga tutto in fretta la cosa bella del sole è che si asciuga tutto velocemente senza tanti problemi senza fretta invece con la pioggia che a me piace tanto la pioggia con la pioggia si fa fatica ad asciugare l'aroma perché appunto piove c'è l'umidità e non si asciuga bene la roba ci va tanto tempo prima che si asciughi la roba questa è una canotina sportiva una canotina sportiva della domios da decadro vecchissima anche questa lunghissima verde c'è neanche una blu dell'OVS però queste qui sono così un verde militare non so se lo vedete domios vedete che c'è scritto domios la pieghiamo così ha praticamente queste spalline così vedete ecco bella larga dovrei comprarne altre queste qua sono comodissime quando fa caldo d'estate bambinissimo da decadron della domios da decadron un sacco di anni questa canotina verde militare voilà la pieghiamo così ecco così scusate i vicini che gridano bella bella con l'etichetta qua ma questa cucitura sia da una parte che dall'altra vedete bellissima cucitura ok vi faccio vedere un'altra maglia aiuto c'è tanto filo di questo microfono tanto filo il video sta venendo lunghissimo c'è un'altra maglia allora ecco la maglia che pazienza l'ho trovata è bianca ma anche se a me è bianco non mi piace però l'ho comprata bianca dai cinesi dai shuè l'hanno scorso a 5 euro in offerta c'erano un sacco di altre maglie con le scritte top adoro ci vediamo a casa ci vediamo presto faccio la brava eccetera eccetera questa qui è la maglia bianca lunghissima con la scritta che pazienza bellissima l'ho già messa un sacco di volte questa maglia scusate ecco che pazienza è adatta a me perché io è una frase che dico sempre questa che pazienza e poi è la scritta dorata quindi è bellissima cioè adoro adoro il dorato vedete che pazienza la bella b che pazienza la c che pazienza ha le maniche anche questa un po' ad aletta vedete così un po' ad aletta ed bianca purissima puritissima profumata anche abbastanza sì stranamente profumata ok questa la pieghiamo così voilà ecco poi vi voglio fare un video di tracing sulla mia cassettina diciamo sui miei quattro cassettini con scritto home che ho comprato al Lidl però il problema è che voi vedete dritto quando io faccio il tracing io devo mettermi dietro al cellulare davanti al cellulare per fare il tracing viene un po' difficile però ci provo lo stesso ok voilà così ancora con l'etichetta ma vabbè bianca e poi questo è il video ragazzi vi saluto spero vi sia piaciuto ho piegato tantissime cose insieme a voi anche se a modo mio le ho piegate però spero che vi sia piaciuto come video ok io ho comprato anche il penny non so se vi ho fatto già il video ASMR dei pannetti in microfibra eccolo qua questo ve lo metto qui tante magne mie ok e l'asciugamano con le stelle della Lidl piegato tutto a posto vi saluto a presto grazie a tutti